Amici di Mr. Gadget, buona giornata, oggi vi faccio vedere un orologio curioso. Sapete che dal mondo cinese arrivano un sacco di prodotti molto singolari. Questo è lo smartwatch number one, che ha la caratteristica di avere un aspetto esteticamente molto simile a quello del Gear S2 di Samsung. Ovviamente i materiali sono un po' diversi, a bordo non c'è Tizen, c'è un cinturino in pelle, c'è un sistema di ricarica con un attacco magnetico, il sensore per il battito cardiaco e poi, ripeto, un sistema operativo invece che si adatta, vedete, insomma richiama un po' il Gear S2. Viene venduto però a 39,99 euro e richiama chiaramente quello che è il mondo del Samsung Gear S2. Dicevamo, al prezzo però di 39,99 dollari. Molte le funzionalità, vedete il sensore di movimento e poi avete la possibilità di cambiare anche lo stile del menu, di entrare nelle impostazioni, insomma, del telefono. Il codice QR serve invece per riuscire a collegarsi ad un smartphone. Se avete uno smartphone in grado di leggere un codice a barre, vedete, basta puntare il codice a barre, vedete, ad esempio questo è il Moto G4, ha riconosciuto il, diciamo, il link che è inserito in questi codici QR per installare l'applicazione BT Notifier che è fondamentale per riuscire a vedere le notifiche, notifiche di WhatsApp, delle chiamate e anche degli SMS. Vedete, qui vedete la lista delle chiamate, una volta che siete collegati, volendo potete utilizzare anche il sistema per fare telefonate, come vedete in questo punto. È molto basico, ovviamente, il sistema, ci sono un po' di applicazioni curiose però che voglio mostrarvi perché ci sono alcune funzionalità che sono assolutamente originali, come questo, cioè mettendo il dito e tenendolo premuto, adesso ci vorrebbe un po' di tempo quindi non riesco a farvelo vedere, avete addirittura il modo di misurare la temperatura. Potete monitorare poi le attività del sonno per la qualità del sonno, potete, come vi ho visto, misurare il battito cardiaco e anche, insomma, il vostro movimento. Volendo potete anche misurare, non lo posso fare adesso perché non sono sotto il sole, vedete, se io adesso far partire inizio, mi sta misurando in questo momento l'esposizione alla luce del sole per capire, insomma, che tipo di sole, di, insomma, quantità di raggi UV ci sono in questo momento nell'aria. La batteria ha una tenuta, vedete che adesso siamo con un livello, insomma, di esposizione al sole comunque basso, infatti siamo al coperto, la batteria ha una tenuta da 3 ai 5 giorni, può resistere anche alla pioggia, non va però immerso perché non è al 100% waterproof, quindi non va bene per immersioni, ma resiste comunque agli schizzi occasionali. Abbiamo detto, ha una memoria interna di 128 MB, ha una memoria RAM di 64 MB, è un prodotto molto molto semplice, molto molto elementare nel suo aspetto, però tutto sommato, insomma, fa il suo mestiere di portare soprattutto le notifiche al polso. Il Bluetooth è in versione 3.0, ha uno screen IPS con un display da 1,2 pollici, 240x240 pixel e, come detto, ha un sistema operativo proprietario in grado di collegarsi ai telefoni Android, c'è anche la possibilità di utilizzare la lingua italiana. Insomma, la cosa da sottolineare è che il prezzo di tutto questo è di 39,99 dollari. Quando mi è stato proposto questo oggetto l'ho trovato particolarmente originale, ho pensato di raccontarvene e di dirvi della sua esistenza. Se siete incuriositi, volete avere più informazioni e sapere soprattutto dove e come acquistarlo, date un occhio a mrgadget.tv oppure cercate Number One Smartwatch su Gearbest. Ciao amici di Mr. Gadget, buona giornata!